Nel giorno del ritorno del Torgiano allo stadio Fausto Braca, la prima in pratica partita del campionato giocata sul proprio terreno di gioco, la squadra del presidente Cervini presenta un'altra novità. C'è l'esordio infatti in panchina di Giovanni Angelini conclusa la sua esperienza con la Juniores del Foligno. Tutti sanno com'è andata con i falchetti. Oggi di fronte al Torgiano c'è il Gualdo, squadra di Guido Vicarelli che reduce dal pareggio 3-3 in casa nelle derby contro il Fontanelle Branca giocato in settimana. L'allenatore degli ospiti deve fare a meno del bomber Mancini, non entrerà infatti per tutta la gara, reduce da una settimana di febbre. Poche, tutto sommato, le opportunità da gol in questo incontro con la nostra rassegna che parte al ventesimo quando Gaggioli disegna una traiettoria maligna su punizione. Colpisce la parte alta della traversa e quattro minuti più tardi è clamorosa l'opportunità per Procacci che spreca tutto solo davanti a Cimarelli, mandando alto. La risposta torgianese è di Iachettini alla mezz'ora, diagonale potente, parato bene in tuffo da Santini. Riesce però a sbagliare l'incredibile il Gualdo Cassacastalda al quarantesimo quando Dragoni centra la traversa dopo un'ottima azione personale. Procacci si imbambola e consente il recupero miracoloso del solito raspa. La partita va avanti senza ulteriori sussulti, il Torgiano è troppo spuntato per poter impensierire seriamente il portiere ospite. E così all'ottavo della ripresa carambola in area sulle braccio di Giambi ma Dincecco dice che si può correre. Passano però solo tre minuti e il vantaggio gualdese è servito. Cross di Silvestri sul secondo pallo arriva Smacchi, classe 2000, colpo di testa e palla che si infila in rete per quello che sarà il gol della partita. Scalda i guantoni di Cimarelli, Gaggioli al ventisettesimo su punizione mentre Angelini prova a cambiare qualcosa passando al 3-5-2 ma la mossa frutta solo a questo tiro debole di Sant'Antonio che termina sul fondo. Proteste al 48esimo del Torgiano per un presunto fallo di mano in area di rigore ma è tutto qua. Vince con merito la squadra di Vicarelli contro un Torgiano troppo spuntato, è vero con molto cuore ma che evidentemente non basta. È dura, è molto dura anche perché con il gualdo era la partita della vita, è inutile nasconderlo insomma. Vediamo se si riparte con più voglia di prima, noi a mio modo di vedere dovremmo fare almeno 20 punti da qui in avanti, non sarà facile. Abbiamo meritato la vittoria fino all'1-0 perché poi abbiamo smesso di giocare e non ci deve succedere perché non siamo una squadra che si deve difendere. Dobbiamo giocare, dobbiamo continuare a giocare e probabilmente era così importante il risultato che abbiamo avuto anche paura di vincere.